19 pile 20 campate per 700 metri di ponte per un totale di 1148 metri così il ponte san giuliano chiuso dal 2017 che porta dalla 19 al centro di caltanissetta è stato abbattuto alle 12 in punto la detonazione è giunta puntuale quattro scoppi conseguenziali 125 chili di esplosivo utilizzati 6.000 metri di niccia la detonazione è arrivata dopo un lungo periodo di studio rispetto all'idea di poter ristrutturare il ponte invece il ponte sarà ricostruito 58 milioni di euro la somma prevista per la ricostruzione così come ha anticipato il sottosegretario alle infrastrutture giancarlo cancelleri facciamo finalmente spazio a quella che è l'area per la ricostruzione nuovi adotti in questi giorni al ministro delle infrastrutture stiamo rimodulando i fondi di sviluppo e coesione che ci permetteranno di avere il nuovo finanziamento di 58 milioni di euro e dentro la fine dell'anno avremo già i soldi disponibili e grazie al progetto esecutivo di ricostruzione partiremo già dal prossimo anno a quella che dovrà essere la determinazione di anas per la ricostruzione è un punto importante perché la nostra città è stata bloccata e questo ci permetterà invece di ridare un nuovo slancio unitamente a questo facciamo spazio anche al completamento della bretella provvisoria che permetterà di avere una viabilità consona e che quindi di poter superare agilmente non solo il centro abitato di avere un migliore collegamento per caltenissetta ma di avere anche un migliore collegamento per tutta la zona dell'agrigentino quindi è un'opera che serve a gran parte della sicilia come risponde a chi dice che lei viene inaugurale facendo soltanto proclami però poi le strade siciliane sono tutte dei pola brodo che alle polemiche si risponde con metri di asfalto noi mi pare che stiamo dando delle giuste risposte una tecnica moderna quella utilizzata per la detonazione raffaele celia il commissario nazionale per le opere sulla 640 nominato dal governo era presente sul posto una piccola stradina di campagna con una grande visuale proprio sul promontorio di fronte dove svettava il ponte san giuliano il viadotto che adesso non c'è più la ricostruzione avverrà come ha anticipato celia con una struttura più agevole più semplice ma soprattutto di impatto ecologico ambientale sicuramente superiore rispetto a quella precedente quanto sarà completa definitivamente la bretella l'obiettivo è di aprire dal traffico entro gennaio sicuramente e invece i lavori di ricostruzione del ponte quando avete previsto di ricominciarli allora qui è già in corso diciamo la procedura di finanziamento il progetto esecutivo è redatto e sta per andare in fase di verifica e di validazione pensiamo di operare non procedendo a una gara d'appalto non è necessaria perché abbiamo già delle imprese contrattualizzate con diciamo la procedura di accordo quadro quindi abbiamo già la possibilità appena arriva il finanziamento nelle settimane immediatamente successive ad aprire i lavori quindi in definitiva i primi mezzi del 2022